Volevo sapere quanto costava tirare un dente? Per un'estrazione il costo è 100 euro 100 euro? 100 euro Un po' che c'è sì, dottore, scusa Considere i costi accessori, l'infermiera, l'anestesia, l'operazione, in sé per sé Infermiera? No, tu prendi la pinza e tiri il dente, quanto costa? E' l'anestesia L'anestesia? Senza anestesia, fammi proprio un prezzo all'osso, all'osso Tu prendi con la pinza il dente e lo tiri, quanto mi viene a costare? Senza anestesia? Senza anestesia Ma fa male E' che paziente, però si risparmia qualche cosa E' certo che si risparmia Quanto si risparmia? Quanto devo pagare? E costerà 30 euro 30 euro 30 euro si può fare, vado per i 30 euro, ma 30 euro sì Certo che lei ne ha di coraggio, vabbè, si accomodi Io, mica io, è per mia moglie E scelto che il dottor ti deve tirare il dente Bene, vieni qua Va